Nel sette baci salati noi ricopriamo il ruolo di gangster e siamo una parte di una piccola memoria del gangster Suarez. Qui c'è tutto lo staff dei gangster e il poliziotto e questo ragazzino è quello che impersona l'immagine di Suarez da piccolo. Quello che viene rappresentato è la strage di San Valentino quando quattro gangster vengono uccisi dai poliziotti corrotti da Al Capone e il piccolo Suarez osserva e vede tutto. Baci salati a Cina!